Per grazia divina siamo giunti in questo luogo per combattere per la sua gloria e il suo onore. I nemici rabbrividiranno al pensiero della possanza dei giusti, che tutti preghino ora perché spargeremo del sangue e ciò è male, ma non se quel sangue sarà foriero della pace del Signore. Oggi affrontiamo i maestri della crudeltà. Questi turchi senza dubbio sperano di catturarci per poterci torturare. Come possono credere di riuscire a vincere contro uomini così nobili e valorosi? La fortuna sorride agli avveduti più che agli audaci. Il nemico è privo di soldati in armatura pesante, perciò i nostri pistolieri, con l'aiuto di Santa Barbara, faranno un massacro. E ora la nostra missione. Vorrei mangiare un boccone. La battaglia mi mette sempre appetito. Inviterò un buon numero di voi al mio desco più tardi.